Stabile il numero dei positivi in Calabria. Secondo il bollettino di ieri, nella nostra regione si registrano altri 2.288 positivi. Diminuiscono invece i ricoveri in area medica, meno 16 rispetto a ieri. Stabile invece la terapia intensiva. Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono 394, mentre 38 sono in rianimazione. Il bollettino regionale riporta inoltre 9 morti nelle ultime 24 ore, di cui 6 a Cosenza, 1 a Crotone e 2 nel Vibonese. Il dato provinciale viene così suddiviso. 979 a Reggio Calabria, 552 a Vibo Valencia, 452 a Cosenza, 208 a Catanzaro e infine 91 a Crotone. Ed ancora la provincia di Reggio Calabria è la più colpita con 979 positivi, con un gom sempre sotto pressione. I validi medici ed operatori sanitari sono stremati lavorando con poco personale e mezzi insufficienti. E di due giorni fa inoltre il trasferimento di due pazienti non covid dalla terapia intensiva del GOM alla terapia intensiva del presidio ospedaliero di Polistena, dove rimane un solo posto letto disponibile. Il tracciamento è impossibile farlo per il gran numero di covid positivi. Stiamo pagando, dice Rubens Curia, due anni di assoluto immobilismo e valutando la nuova task force regionale per il contrasto al covid, notiamo che la cultura ospedalocentrica, nonostante le valide presenze dei rappresentanti e dei sindacati, impera sempre. Non è presente un direttore di Dipartimento Prevenzione, figura fondamentale per riorganizzare il contrasto alla pandemia sul territorio. Intanto dalla Regione si annuncia il servizio di telemedicina, nato dall'utizione del dottor Agostino Miozzo, consulente in Calabria per l'emergenza covid, che partirà nel giro di pochi giorni. Un progetto di assistenza domiciliare assieme alla telemedicina, che sarà realizzato in collaborazione con il professor Luca Richeldi, responsabile dell'unità di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma. In una fase critica dell'emergenza sanitaria, l'obiettivo del progetto, dice Occhiuto, è quello di alleggerire la pressione sugli ospedali calabresi. Dobbiamo importare le buone pratiche, dice, che hanno già dato prova di essere efficaci. E sul campo vaccinazioni, la Regione raddoppia e lancia da oggi a sabato il nuovo Open Vax School, riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni, dosi che verranno somministrate dalle 14.30 alle 18.30 in molte scuole calabresi. Ne annunciamo alcune, il liceo Telesio di Cosenza, l'istituto Vittorio Emanuele di Catanzaro, l'istituto Malafarina di Soverato, il liceo Campanella di Lamezia Terme e per quanto riguarda la provincia di Raggio Calabria troviamo l'istituto comprensivo di Amicis, l'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni e per la Locride il liceo Zaleuco.